Buongiorno Buongiorno Lo prendo per i capelli se ci viene Buongiorno 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 Andiamo a forse Buongiorno Buongiorno Questo è il piatto cuore Qui però devo dividere uno solo uno portami un piattino uovo portami un piatto uovo e veniamo alla metà Qui ci sono eh, arrivano, a posto, devono arrivare due, uno è arrivato, una ragazza manca e non verrà, non so cosa dire, questi arrivano, sono già arrivati, avete preso il costume vuoi, fai il bagno tu, no dici, ma che freddo, non è freddo